Con la decisione di non lasciare Gela e di conseguenza anche il calcio, per il presidente Cristiano Paradiso è tornato ad innescarsi la voglia di puntare in alto e di portare il vessillo dell'altretico Gela sul pennone del movimento locale. Così dopo aver intercettato il nuovo allenatore che andrà a prendere il posto che è stato fino ad un mese addietro di Simone Pardo, individuandolo in quel Peppe Misiti che lo scorso anno alla guida del Gela Calcio ha vinto tutto quello che c'era da vincere a suona di record, campionato di prima categoria, Coppa Sicilia e Coppa Disciplina, adesso il patron del club Gela Rosso sembra tornare alla carica per andare a prendere un titolo di eccellenza. In quest'ottica infatti va inserita la notizia secondo la quale nei giorni scorsi lo stesso Cristiano Paradiso si è stato avvistato da occhi indiscreti a Modica, laddove cioè c'è una società di eccellenza in grande sofferenza. Già prima della decisione poi rientrata di lasciare Gela per andare a fare calcio nel nord Italia, in particolar modo in Veneto, si era vociferato di un interessamento della famiglia Paradiso per il titolo del Modica. E lo stesso presidente Cristiano Paradiso non aveva smentito questa trattativa che però si era chiaramente d'altrettanto bruscamente interrotta nel momento in cui il massimo dirigente dell'altretico Gela aveva annunciato di lasciare la città e il calcio gelese. Ora dunque con il ritorno di fiamma di Paradiso e della sua famiglia che hanno deciso di tornare ad investire nel calcio locale e nell'altretico Gela, in particolare appare verosimile che la trattativa per l'acquisto del titolo di eccellenza del Modica sia potuta tornare prepotentemente in auge. Per i particolari però bisognerà attendere ancora qualche giorno.